Linda Laura Sabadini, che è direttore del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Ambientali Istat. Lei ha i numeri, cito il titolo del suo intervento, per capire il paese. Ossia, lei, parlavamo prima, ha un percorso, un impegno personale e professionale all'interno della realtà in cui lavora veramente interessante. Diviso quasi in due step. Prima far considerare le donne nell'analisi delle indagini statistiche, che poi, con questi dati alla mano, procedere ulteriormente. A lei la parola. Allora, grazie intanto per l'invito. Sono veramente molto contenta di essere qui. Devo parlare di statistiche. Statistiche richiamano i numeri. Qualcosa che ai più nel nostro paese appare lontano, arido, a volte incomprensibile. E io cercherò di farvi capire perché questi numeri non solo sono importanti, ma perché possono anche appassionare persone come me. Perché le statistiche ufficiali non sono aridi i numeri, ma hanno anche loro un'anima. E perché dovremmo utilizzarle un po' di più. Per decenni nel nostro paese le politiche sono state impostate in gran parte su base ideologica. O sulla base di interessi di quella o quell'altra parte, di quello o quell'altro segmento di popolazione. Non si è sviluppata una cultura politica che mettesse al centro la situazione per quella che è. Quella che si evince dai dati. Quella che si evince dai dati ufficiali. E questo ha fatto sì che molto spesso non si facessero i conti con la situazione reale, ma che addirittura ognuno fosse portato a usare strumentalmente i dati per difendere una o l'altra posizione. E questo è una cosa con cui mi sono scontrata moltissimo nel corso del mio lavoro. Nel momento in cui io diffondo i dati sull'occupazione, ho immediatamente le risposte da una parte e dall'altra di chi si va a cercare quel dato che conferma una certa tesi e l'altro che si va a cercare quell'altro che conferma l'altra tesi. E non la tendenza a cercare di capire complessivamente tutti insieme quali sono gli elementi fondamentali, le criticità fondamentali che stiamo vivendo. E quindi il rapporto con le statistiche della politica tradizionalmente è stato un rapporto che avveniva non per comprendere la situazione, ma per dimostrare che si aveva ragione. Che è proprio il modo più sbagliato per affrontare questo aspetto. Per di più però le statistiche da parte loro per decenni sono state incomplete e hanno avuto delle grandi carenze. E arriviamo a questo. Per molto tempo sono esistiti squilibri nell'attenzione alle differenti aree tematiche da parte degli istituti nazionali di statistica non solo nel nostro paese. Questo è stato un problema generale. Gli istituti nazionali di statistica sono stati caratterizzati per decenni da una visione assolutamente economico-centrica. E questo ha inciso sulla completezza e sulla qualità di queste informazioni statistiche che, ricordo, in quanto ufficiali, sono un bene pubblico. Ora, gli elementi per la comprensione e la lettura della società nel suo complesso non sempre sono stati presenti. E non è un caso che la produzione di statistiche sociali, di statistiche di genere, di statistiche ambientali, ne sia stata fortemente penalizzata per anni. Non è un caso, per esempio, che proprio queste statistiche vanno a finire in coda alle priorità. E io ne so qualcosa, perché sono capo del Dipartimento delle Statistiche Sociali e Ambientali, quindi so quanto devo lottare ogni anno per evitare che lo stare in fondo alle priorità diventi il taglio di queste stesse statistiche. Perché a me avviene sulle statistiche, che ad altri avverrà su altri, immagino che anche all'assessore avverrà su altri piani, sul piano delle politiche. E questo perché, anche perché la legislazione è fatta in modo che questo retaggio dell'economico centrismo della statistica ufficiale degli istituti nazionali e statistiche è regolato per legge. Perché tutti i regolamenti europei sono sulle statistiche economiche, quindi noi abbiamo vincoli di legge che ci impongono di fare quelle statistiche in un certo modo, molto pochi sono sulle statistiche sociali e ancora meno sulle statistiche di genere. Quindi questo squilibrio si riversa immediatamente sulla possibilità concreta. Ti devi trovare poi altre strade, come io ho dovuto fare, trovare sovvenzionamenti da parte dei ministeri, andare per supportare e puntellare una produzione statistica che altrimenti non sarebbe mai decollata. Ed è così, però, che se al centro viene posta l'economia, quello che succede è che se i governi considerano prioritaria l'azione soprattutto economica e viene dato poco spazio alle politiche sociali e ambientali, prioritarie diventano anche le statistiche economiche e non quelle sociali e ambientali, i prioritari diventano i cosiddetti soggetti produttivi. Ed è così che in primo piano vengono messi i soggetti appartenenti alle forze di lavoro, in gran parte i maschi adulti, e solo con molto ritardo si coglie la necessità di allargare il campo di interesse anche agli altri. Ne hanno fatto le spese tutti, ne hanno fatto le spese tutti i soggetti sociali, le donne in primis, ma anche gli anziani, i bambini, i giovani e così via, per decenni invisibili nelle statistiche ufficiali. Perché le donne, ma anche tutti gli altri soggetti sociali, sono stati invisibili per decenni. Ora non stiamo più in questa situazione, ci arrivo, però questo è il punto di partenza da cui partiamo. Quindi ne hanno fatto le spese in sostanza i cittadini, non considerati per decenni come portatori di bisogni che la statistica pubblica doveva misurare. Un'ottica che è stata anche gender blind, che è molto bello in inglese, in italiano è brutto, cieca dal punto di vista di genere, non rende bene, per questo io dico sempre gender blind, anche se non mi piace usare gli inglesismi. Però è stata un'ottica gender blind che non ha permesso per tanto tempo di avere i numeri per poter progettare le politiche adeguatamente. Badate bene che questi numeri servono, sono indispensabili, sono indispensabili per tutti e tutti dovremmo imparare a utilizzarli, perché senza questi è impossibile capire qual è veramente la situazione, figuriamoci in questa fase di crisi, in una crisi così difficile da comprendere per le caratteristiche nuove che ha, quali sono le cose che migliorano, perché comunque anche nei periodi di crisi vanno ricercate e è fondamentale ricercare anche le cose che migliorano e non concentrarsi soltanto sugli aspetti negativi, perché proprio quegli aspetti che migliorano possono essere i puntelli da cui partire per un rilancio e quali invece le criticità. Molti fenomeni che sono cruciali da un punto di vista del sociale e economico come la disoccupazione, lo sviluppo economico, non sono neutrali da un punto di vista del genere. Questo deve essere chiaro. Se la programmazione viene impostata senza considerare il genere, uomini e donne non possono che beneficiare in modo diseguale degli effetti delle politiche che vengono adottate e per fare questo ovviamente c'è bisogno non a caso che in molti paesi se lo danno di bilanci di genere che permettono proprio di capire qual è la valutazione d'impatto delle misure che si danno sia sugli uomini che sulle donne. Ebbene, quando sono entrata all'Istat io sono entrata all'inizio degli anni Ottanta quando sono entrata all'Istat la situazione era esattamente questa invisibilità totale delle donne dei giovani dei bambini e così via scarsa informazione statistica sul piano sociale Istat totalmente economico centrico ed è stato in qualche modo il primo obiettivo che in qualche modo mi sono mi sono data cioè come riorientare la situazione vi dico che io sono è stata una lunga battaglia anche un lungo impegno contro l'invisibilità delle donne nelle statistiche ufficiali e così di tutti i soggetti sociali un impegno che è passato per la partecipazione alla conferenza mondiale delle donne quella bellissima che c'è stata a Pechino nel 95 e anche come ricordava si ricordava prima un lavoro intensissimo con tutti i ministri delle pari opportunità che poi si sono succeduti fin dall'inizio fin da quando fu fatto il primo ministro delle pari opportunità e ancora prima con la commissione nazionale parità quindi una battaglia che non ho fatto da sola questo ci tengo a dirlo cioè se poi ho raggiunto dei risultati anche perché su questo c'è stato un sostegno fortissimo delle donne un sostegno fortissimo delle donne non solo dell'associazionismo ma anche da un punto di vista politico era un obiettivo che era diventato trasversale per tutti per tutti quanti io ero entrata con un concorso di licenza media inferiore all'interno dell'Istat però avevo questo in mente fin dall'inizio fin da quando ero entrata perché la mia passione erano i numeri per me lo sono sempre stati non a caso ho fatto statistica e il sociale e il sociale nell'ambito del sociale in particolare ovviamente la condizione delle donne questa era una cosa ho coniugato le due cose nel momento in cui scelgo di entrare in un servizio pubblico scelgo di operare perché questo bene sia veramente pubblico perché questa informazione statistica diventi il più possibile un bene pubblico che non escluda nessuno che quindi in qualche modo rappresenti tutti al suo interno me lo son data come obiettivo quello di colmare questo che io ero convinta essere un deficit di democrazia perché in qualche modo se l'Istat non rappresenta tutti i soggetti ma rappresenta solo i soggetti rilevanti da un punto di vista economico questo porta un deficit di democrazia necessariamente perché se non si conosce bene non si può operare altrettanto bene e quindi su questo piano mi sono impegnata e l'ho fatto con grande passione lo dicevo anche ieri e oggi che sono capo dipartimento delle statistiche sociali e ambientali quindi sono arrivata al top partendo però dal cioè dal lavoro diciamo più esecutivo che potessi fare non posso che ovviamente dichiararmi soddisfatta perché oggi la situazione si è totalmente ribaltata e la situazione è rivoluzionata non che tutto sia risolto perché ci sono nuove sfide ma queste ci sono sempre l'innovazione deve essere sempre al primo posto ci sono nuove sfide da cogliere però sicuramente abbiamo ribaltato l'ottica possiamo dire che rispetto ai soggetti ai loro bisogni noi abbiamo tantissima informazione che assolutamente deve essere anche sfruttata di più e una delle cose su cui ho cercato di impegnarmi il più possibile è di renderla fruibile perché io lo so che c'è un blocco rispetto alla statistica così come c'è un blocco nell'utilizzare i numeri quindi uno degli obiettivi diciamo che mi sono data è anche quello di renderli più semplici possibile da capire perché molto spesso purtroppo anche per i nostri metodi di insegnamento della matematica io fortunatamente ho avuto una super professoressa di matematica alle medie che è quella che mi ha dato l'imprinting della passione per la matematica che è Emma Castelnuovo che è ancora in vita che sicuramente conoscerete perché è una donna è stata anche insegnita dal presidente della repubblica per questo è una donna che ci insegnava la matematica senza farci fare un calcolo cioè la matematica era intuizione più logica ci faceva sviluppare intuizione logica ragionamento noi risolvevamo qualsiasi tipo di problema però sui calcoli sull'espressione non eravamo molto forti però questo perché lei diceva ci sono le calcolatrici per fare i calcoli intanto voi dovete imparare la logica e affrontare così la matematica a quell'età è stato tant'è che tutti avevamo voti altissimi e moltissime persone che hanno fatto matematica con lei poi sono andate sul ramo scientifico ovviamente perché questa passione era nata presto purtroppo noi abbiamo una situazione opposta che è un grave problema del paese non si sa insegnare la matematica nel nostro paese tant'è che i nostri giovani rispetto agli altri paesi europei avanzati stanno molto ma molto più indietro rispetto alle competenze matematiche più in generale scientifiche questo è un nodo che noi prima o poi dovremmo affrontare vi voglio portare però due esempi importanti e cruciali su come è fondamentale produrre statistiche di genere per capire la situazione e anche per abbattere stereotipi allora vi faccio un primo esempio un primo esempio è quello che riguarda la violenza la violenza contro le donne se voi avete notato i media per molto tempo hanno focalizzato l'attenzione sulla violenza sulle donne che avviene per strada ad opera di estranei in gran parte immigrati ora non che questa non esista perché questo ovviamente è un segmento di violenza che le donne subiscono però l'aver fatto questa grande indagine sulla violenza contro le donne tra l'altro tra i primi paesi al mondo che abbiamo fatto trovando una metodologia anche molto complicata per poter arrivare alle stime ha messo in evidenza che purtroppo la maggioranza delle violenze che le donne subiscono sono violenze che avvengono all'interno della famiglia o da parte del marito o del partner o dell'ex ebbene che cosa è successo che le statistiche ufficiali in quel caso sono servite assolutamente a ripristinare un po' la verità e a sgombrare un po' il terreno dagli stereotipi su questo fronte pensate se le politiche di prevenzione e contrasto nei confronti della violenza contro le donne fossero state fatte sulla base di quei servizi sulla base dell'assenza diciamo così di dati ufficiali su questo terreno si sarebbero tutte concentrate soprattutto su quell'aspetto della violenza da parte di estranei nei confronti delle donne quando qua il problema numero uno che abbiamo è che dobbiamo prevenire e contrastare una violenza che purtroppo è da parte di persone molto ma molto vicino alla vittima e che c'è un problema serissimo che riguarda anche le donne nel riconoscere la stessa violenza che molto spesso fa sì che le stesse donne non riescano a interrompere in tempo la spirale della violenza che si viene a creare questo diciamo questa è una cosa il secondo esempio velocissimo che voglio fare è quello che riguarda le donne e la crisi si dice che le donne sono colpite di meno diciamo dalla crisi nei confronti degli uomini in effetti se si vanno a vedere i numeri noi troviamo che il calo dell'occupazione che c'è stato nel nostro paese in questi anni è stato maggiore per gli uomini che non per le donne d'altro canto questo è dovuto anche al fatto che il cuore della crisi è stata l'industria la gran parte dei posti che si sono persi sono stati nell'industria dove sono occupati più uomini però questo non basta non possiamo fermarci a questo e dire però tutto sommato questo tasso di occupazione femminile non è che è diminuito tanto anzi addirittura cominciamo a vedere che per certi versi sta crescendo perché quello che è successo è che il primo anno nel 2009 è calata l'occupazione femminile nel 2010 stabile nel 2011 più 110.000 in valori assoluti allora dobbiamo stare molto attenti a come analizziamo diciamo questi questi dati perché è successo che l'emorragia di perdita di lavoro di posti di lavoro da parte delle donne è diminuita perché troviamo questo più 110.000 assolutamente non è così non è successo questo perché quello che sta succedendo è che sta crescendo l'occupazione delle ultra cinquantenni e sta diminuendo l'occupazione femminile giovanile cioè in sostanza come effetto delle misure prese da un punto di vista pensionistico i tassi di occupazione delle donne con più di 50 anni stanno crescendo perché quelle che prima sarebbero uscite dal mercato del lavoro prima non escono più rinviano per il nuovo sistema pensionistico però non si sta risolvendo il problema delle donne giovani le quali giovani o entrano più tardi o o vengono proprio espulse continua questo processo il secondo elemento che contribuisce a questo più 110 mila è il fatto che si incrementa in termini assoluti l'occupazione femminile straniera si incrementa l'occupazione femminile straniera perché perché l'unico settore che durante la crisi non ha avuto calo di occupazione è stato quello dei servizi di cura alla famiglia perché questi sono bisogni incomprimibili una famiglia prima di tagliare lì taglia altre cose in periodo di crisi dati i problemi gravi che ci sono anche dal lato dei servizi sociali per fare un esempio quindi che succede succede che ogni anno è comunque cresciuto il numero di donne anche immigrate che lavoravano come colfa assistenti agli anziani e ai disabili ma che vuol dire che le donne immigrate stanno meglio no aumenta in valori assoluti ma non aumenta il tasso di occupazione delle immigrate le immigrate stanno peggio stanno perdendo occupazione anche loro perché perché cresce come sapete ogni anno aumenta la popolazione straniera nel nostro paese quindi arrivano anche più donne immigrate ma queste più donne immigrate che arrivano non riescono a trovare il lavoro come lo trovavano prima quindi in sostanza pur mantenendo pur crescendo in valore assoluto il lavoro nei servizi non cresce l'occupazione femminile delle immigrate e questo lo dico perché se non si incastrano tutti questi dati e non si mettono insieme adeguatamente il rischio è che noi rischiamo di dare potremmo dare semplicemente una valutazione positiva più 110.000 non è perché voglio cercare a tutti i costi gli aspetti negativi però questo deve essere un elemento di allerta fondamentale che ci dobbiamo dare ultimo aspetto sempre su questo è che dobbiamo guardare che succede dentro questa occupazione sono calate le professioni tecniche sono calate le tecniche e le professioniste sono aumentate le colf la qualità del lavoro delle donne purtroppo è peggiorata nella composizione interna quindi il problema fondamentale è che noi dobbiamo avere in primis questi numeri li dobbiamo avere con stabilità con continuità ma li dobbiamo anche saper leggere e saper leggere con la dovuta attenzione e con neutralità tra virgolette non andare alla ricerca di quel dato che sempre comunque può in qualche modo sostenere le tesi che noi abbiamo quindi questa è l'ultima cosa per concludere le statistiche ufficiali sono un bene pubblico come ho detto prima e proprio per questo devono rappresentare tutti nessuno escluso una grande rivoluzione è stata fatta perché molte delle cose che vi ho detto prima non si potevano fare questo tipo di analisi non si potevano vedere sono grandi innovazioni che sono state fatte molto è stato fatto anche però per l'iniziativa continua costante di chi credeva in queste cose cioè molto spesso i grandi cambiamenti derivano anche dall'ostinazione e determinazione di donne che credono in questi cambiamenti e con ostinazione li portano avanti allora noi dobbiamo fare in modo secondo me in questo il messaggio che viene dal lavoro che è stato qui riportato è molto forte dobbiamo fare in modo che questa determinazione che questo approccio diventi proprio la chiave fondamentale per il cambiamento cioè che voglio dire voglio dire che probabilmente ce ne stanno tante di donne che hanno fatto cose analoghe ma di cui non si è mai parlato di cui nessuno sa poi che cosa ha significato questo in termini di battaglia quotidiana di obiettivi che si sono dati di prezzi che hanno dovuto pagare e ci sono quelle che ci sono riuscite poi a portarlo avanti e ci sono quelli purtroppo che invece non ci sono riuscite che hanno fallito quello che dobbiamo fare noi secondo me è di rendere più visibile possibile tutte queste esperienze ma soprattutto di cogliere la grande sfida che c'è di arrivare al cuore dei luoghi decisionali cioè questa è la grande sfida oggi è molto più difficile fare il passo indietro all'istat sulle questioni che sono state raggiunte perché io sono diventata capo dipartimento delle statistiche sociali e ambientali è molto più difficile fare il passo indietro perché io farò in modo cercherò di fare l'impossibile perché il passo indietro non si fa ieri sarebbe stato più facile ma se questo è andato bene all'istat deve andare bene anche dalle altre parti quindi l'obiettivo di raggiungere questa presenza determinata ostinata delle donne nei luoghi decisionali è la priorità numero uno che noi abbiamo grazie 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 a tutti grazie a tutti